Vivo molte vite diverse, mi piace viaggiare e disconnettermi da tutto, ma amo anche le sfide quotidiane e passare del tempo con gli amici, ma quello che amo di più è riuscire a fare tutto nello stesso giorno. Sei a Tateca con fari full led, navigatore, videocamera posteriore, front lane assist e in più fino a 5.500 euro di vantaggi, design e tecnologia inclusi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento della nostra vetrina dell'auto. Oggi ci troviamo da Fratelli Giacomel e sono qui in compagnia di Matteo. Ciao! Buonasera, un caloroso benvenuto a tutti in Seat Fratelli Giacomel, concessionario Seat di riferimento per Milano e provincia. Solo per questo mese passaggio di proprietà incluso per tutte le vetture demo-kilometri zero vendute con accesso a un finanziamento. Ora lascio la parola a Raimondo che vi illustrerà le proposte del mese. Un buongiorno a tutti e benvenuti in Seat Fratelli Giacomel. Vi ricordo il nostro indirizzo, ci potete trovare ad Assago in via Verdi al 4, a 300 metri dal forum. Inizio subito nel presentarvi le vetture di quest'oggi. Qui accanto a me abbiamo una Ateca allestimento FR. La vettura ha già in dotazione il DAB, portellone posteriore elettrico, sedili conducente elettrico, sedili in pelle, fari a led, front assist e riconoscimento dei pedoni di serie, cerchi da 19 e tetto panoramico. La vettura qui esposta la potete trovare a un prezzo di 32.700. Parliamo di una motorizzazione 2000 TDI da 190 CV. Eccoci qua accanto a un top di gamma, è una Seat Leon versione Cupra, è una berlina, è un 2000 benzina da 300 CV. La vettura in dotazione ha cerchi da 19, bit sound system composto da 18 parlanti con subwoofer, caricatore wireless, DAB, driving parking, assistenza quindi al parcheggio, casing che è il sistema di apertura e di chiusura della vettura senza l'utilizzo della chiave, sistema di navigazione, tetto panoramico, doppio terminale cromato, pinze dei freni rosse e virtual cockpit. La vettura è in promozione a 30.490 euro. Eccoci nuovamente qua accanto a un'altra Ateca, è un bianco Nevada, una motorizzazione 2000 TDI e 4 ruote motrici allestimento FR da 150 CV. La vettura che vi presento ha già i cerchi da 19, navigatore incorporato con display da 8 pollici, fari full LED, bit sound system, il chassis, assistenza al parcheggio e sensori di parcheggio, anteriori e posteriori e sistema dell'angolo cieco. La vettura qua è esposta, è sempre in promozione un chilometro zero a 29.790. Eccoci nuovamente accanto a una splendida Seat Ateca. La versione che vi presento è un 1.6 TDI versione style 115 CV, bianco Nevada. La vettura qui presente ha in dotazione fari full LED, materiale di navigazione, pacchetto esterno in cromato, retrocamera di parcheggio, ruotino di scorta, Seat Dive Profile e sedili Alcantara. La vettura vi ricordo è un chilometro zero ed è proposta a 23.500 euro. Passiamo ora alla gamma Seat Leon Station Wagon. La vettura che vi presento è un allestimento FR, è un top di gamma, è una 2.0 TDI da 150 CV. La vettura qui presente è colore grigio Pirenei, ha già in dotazione pacchetto FR, quadro digitale, retrocamera di parcheggio, ruota di scorta, Seat Full Link, sistema di apertura e chiusura della vettura senza l'utilizzo della chiave, connected box. La vettura qui presente vi ricordo è un chilometro zero e la proponiamo a 25.990 euro. Eccoci accanto a una splendida Seat Leon FR. La vettura che vi presento è una berlina, questo rosso Desiree favoloso. La vettura qui presente è una FR 2000 TDI da 150 CV con DSG, quindi con cambio automatico. La vettura qui presente ha già connectivity box, fari full LED, quadro strumenti digitale, ruotino di scorta da 18 pollici, Seat Full Link, sistema di regolazione della velocità, quindi l'adaptive cruise control e il CASI, che è l'apertura e la chiusura della vettura senza l'utilizzo delle chiavi. Vi ricordo che altre auto in promozione della gamma Seat potete trovarle per il nostro salone. Veniteci a trovare in modo che potremo provare le vetture assieme. E ora passo la parola al mio collega di Audi, Davide. Grazie Raimondo e benvenuti nello showroom Audi Prima Scelta Plus, sempre dai fratelli Giacomel. Iniziamo subito col presentarvi questa fantastica Audi A4 All Road. È un 3.000 da 272 CV, vettura di settembre 2016 ed ha percorso solamente 71.000 km. Di A4 All Road ne abbiamo anche un'altra versione di colore bianco, 2.163 CV. Questa vettura la proponiamo a 38.900 euro. Continuiamo con questa fantastica Audi Q2 colore giallo Vegas, vettura molto particolare di un colore bellissimo. Questa vettura è un 1.6 turbodiesel, 116 CV nella versione Sport, è un 3.0 2017 ed ha percorso solamente 23.600 km. Faro full LED, virtual cockpit, navigatore, bluetooth, frecce dinamiche e cerchi in lega. Questa vettura la proponiamo a 25.500 euro. Andiamo avanti con una chicca, la nuova Audi A7. 3.000 turbodiesel, 286 CV. È una vettura aziendale di marzo 2018 ed ha percorso solamente 15.800 km. I fari LED a matrice alta definizione, lettore DVD, pacchetto assistenza tour, pacchetto S-Line, interni in pelle, telecamere perimetrali. Aveva un listino nuova di 105.500 euro. La proponiamo a 76.500 euro. Venite a provarla e a toccarla con mano. Vettura con 48 mesi di garanzia Audi Prima Scelta Plus. Andiamo avanti con questa fantastica Audi A4 Avant 2.190 CV, versione Sport, con pacchetto S-Line esterno. Vettura ricca di accessori, tra cui fare i full LED, frecce dinamiche, come detto prima, pacchetto S-Line esterno, cerchio in lega da 18, navigatore satellitare, bluetooth, volante in pelle e climatizzatore tre zone. Questa vettura ha una chilometri zero di aprile 2018. Noi la proponiamo a 37.900 euro. Di Audi A4 in casa ne abbiamo parecchie, anche chilometri zero ed anche aziendali. Sono tutte vetture garantite che rientrano nel programma Audi Prima Scelta Plus. 48 mesi di garanzia. E come sempre, per questo mese, se pagate la vettura comodamente nel tempo, il passaggio di proprietà lo paghiamo noi. Andiamo avanti con Audi A1 1.6 Turbo Diesel Cambio Automatico S-Tronic. Questa è una vettura aziendale di maggio 2018, quindi recentissima. In questo momento la state vedendo nella combinazione bianco perlato con tetto nero lucido. Ce l'abbiamo anche nera con il tetto argento metallizzato, argento metallizzato con il tetto grigio scuro ed un'altra vettura sempre bianca col tetto grigio Daytona. Tutte le vetture sono dotate di farello xeno, luci diurne led, 5 porte, bluetooth, volante in pelle, comandi a volante, cerchi in lega e 5 posti. Queste vetture le proponiamo a 20.200 euro. Ed ecco voi un'altra fantastica a chilometri zero, Audi Q5, 2.0 Turbo Diesel, 190 cavalli, trazione integrale 4, cambio automatico S-Tronic, vettura di dicembre 2018 e una fantastica a chilometri zero, cerchi in lega da 20, faro full led, pacchetto assistenza tour, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, volante sportivo, MMI Touch. Avrebbe un listino di 64.900 euro. noi la proponiamo a 51.500 euro. Di Audi Q5 in casa ne abbiamo a partire da 42.500 euro, sempre versioni 190 cavalli allestimento sport e sono vetture aziendali, sempre che rientrano nel programma Audi Prima Scelta Plus, quindi 48 mesi di garanzia. Continuiamo con Audi A3 Sedan, 1.600 turbo diesel, cambio automatico S-Tronic, versione business, colore argento fioretto, vettura di maggio 2017 ed ha percorso solamente 12.600 chilometri. Vettura con navigatore satellitare, bluetooth, farello xeno, luci di urne led, sensori di parcheggio, cerchi in lega. Pensate, questa vettura qui in particolare ha anche il doppio treno di gomme invernali, quindi nel prezzo vediamo anche le gomme invernali oltre alle sue gomme estive. Questa vettura la proponiamo a 23.900 euro, sempre con garanzia Audi Prima Scelta Plus, 48 mesi. Inoltre di A3 Sedan sempre in casa, visibili nel nostro showroom, ne abbiamo un'altra colore grigio atomico. Andiamo avanti con un'altra Audi A4 Avant. È una 2000 turbo diesel, cambio automatico S-Tronic, 150 cavalli, nella versione business sport. Questa vettura è di febbraio 2017 ed ha percorso solo 25.200 chilometri. Qui la vedete di colore argento, ne abbiamo anche altre di colore bianco, altre di colore nero, piuttosto che grigio oscuro. Questa vettura, anche lei, rientra nel programma Audi Prima Scelta Plus, quindi gode dei 48 mesi di garanzia. Come si può vedere, è vettura anche lei, ricca di accessori, tra cui farello xeno, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, anticollisione, navigatore, bluetooth, volante in pelle, che dire, tutto necessario per una guida confortevole e sicura. Questa vettura la proponiamo a 28.900 euro. Finiamo, come al solito, con una chicca. Una bellissima Audi A3 Sportback G-Tron. È una 1410 cavalli, cambio automatico allestimento design, vettura a metano di aprile 2018. Questa vettura è ricchissima di accessori. Come potete vedere, tra faro full LED, con frecce dinamiche, Audi Design Selection, cerchi in lega da 18, Audi Phone Box, pensate, impianto audio Ben Golfsen, tetto panoramico in cristallo, navigatore, bluetooth, volante in pelle sportivo tagliato nella parte inferiore, interni sportivi, pelle e tessuto, vettura da venire assolutamente a vedere, colore stupendo, blu Cosmos. Anche lei rientra nel programma Audi Prima Scelta Plus e gode di 48 mesi di garanzia. Venite a trovarci, mi raccomando, perché questa vettura ne vale davvero la pena. Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Grazie Davide, grazie a tutti voi che ci avete seguito e io vi invito qui da Fratelli Giacome. Alla prossima!